Fondazione Molise Cultura Ma è ogni sera una meraviglia, innanzitutto perché è un testo splendido, è un testo di una modernità assoluta e poi perché lavorare con tre grandi è un piacere immenso. Benissimo, Antonio, è ancora attuale recitare testi classici come Aspettando Godù? Sì, intanto i testi classici sono sempre attuali in tutti i sensi. Questo qua, devo dire, questo Aspettando Godù forse è più attuale oggi che quando è stato scritto. Un testo sempre veramente rivoluzionario, un testo, questa edizione, che emoziona e fa ridere. A volte è stato fatto anche male e allora passa per un testo così d'avanguardia. Ma oggi come oggi è un testo molto popolare, la gente si commuove e ride quello che ci ha insegnato e ci ha dato il nostro regista Maurizio Scaparro. Benissimo, tra l'altro abbiamo due serate qui a Savoglia, entrambe pienissime sold out. Luciano, avete una tournée ricca, siete richiestissimi. Per la verità, adesso stiamo per finire la tournée. Oggi e domani siamo qui e dopo domani siamo a Latina e per questa volta, per quest'anno è finita, per questa stagione. Ma noi aspettiamo che arrivi la prossima stagione perché dobbiamo anche portare questo spettacolo a Parigi, che è una cosa che ci riempie di orgoglio. Graziosissimo. Gabriele, invece, il tema dell'attesa oggi. Che dire, in un periodo così frenetico l'attesa è importante perché ci si sofferma a conoscere la gente, cosa che ormai è difficile perché siamo sempre attaccati al cellulare. E pensiamo anche che questa lunga attesa che ci propone Aspettando Godot è ricca di poesia e quindi meglio aspettare, ascoltare e vedere. E ci piace. E ci piace, ci piace molto. Molto. Edoardo Siravo gioca in casa e quindi torna a Campobasso con grande successo. Attore, regista teatrale, doppiatore, ha lavorato nel cinema, nella televisione, nel doppiaggio. Cosa le piace di più? Prima di tutto, meno di loro che ne hanno fatte anche più di me, sia Luciano che Antonio. Quelli che ne hanno combinati di tutti i colori nella loro carriera. Io sì, sono felicissimo di tornare qui a Campobasso in questo che è stato un teatro dove ho fatto la mia prima direzione artistica importante. In Molise, poi io sono molisano di origine e quindi è stata una bellissima, grandissima, importantissima esperienza. Credo di aver fatto il mio dovere nel migliore dei modi per questo teatro, perché il nostro pubblico, infatti tu mi dici che è sold out e quindi anche questo è una cosa che mi riempie di gioia. Perché questo teatro vuol dire che continua a funzionare nel migliore dei modi come si merita Campobasso e come si merita la bellezza di questo teatro. Che devo dire? Aspettando Godot è per noi stata una bellissima gioia. Non dimentichiamo che la quarta o la terza o la quarta ripresa che facciamo, cioè nel senso che è già quattro anni che va in giro. Appunto dovremo andare all'estero, forse Parigi, cioè non forse Parigi, ma forse anche Lisbona, forse anche Tirana. Insomma è ricercato in giro perché forse questo spettacolo ha un che di europeo effettivamente. Non solo nel testo, ma anche nella realizzazione che spero chi verrà a vedere potrà constatare la bellezza di questa messa in scena. E apprezzarlo. Grazie a tutti, complimenti straordinari. Vi aspettiamo a teatro. Grazie a me. Grazie. Vi aspettiamo.